Vai! Dave contro Beth! Dave! Vai Dave! Fai vedere quello che va! Dai! Vai Dave! Noccia! Super Zen! Touch Zen! Super Zen! Super Zen! Vincitore il primo round? Vincitore il primo round! Andiamo subito col secondo, no? Tu hai vinto il primo round! Adesso stai per iniziare la rivincita! Ma che sono allenati, no? No! 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 Non si stai per iniziare la rivincita! Scondo a round Tez verso, terzo a round Ok